Questa, signori, è una storia di assoluta curiosità, anche se riguarda un matrimonio, ma capiamo subito che è un matrimonio particolare, perché parliamo della principessa di Norvegia che va a sposare lo sciamano Berret. E questo sciamano pensa di essere risorto, pensate un po'. Ma a parte questo, la storia tra i due non è piaciuta al paese scandinavo, dove per i suoi metodi e le dichiarazioni di medicina alternativa praticamente è stato etichettato come un ciarlatano, cioè uno che parla a sproposito e dice cose sue. Marta Louise, la principessa di Norvegia, si sposa. La figlia maggiore del re Harald e della regina Sonia convolerà a nozze con Durek Berret, che si è autoproclamato sciamano delle sesta generazione, il 31 agosto 2024. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia attraverso i propri canali social. La storia d'amore tra la principessa 51enne e l'afroamericano Berret, un guru spirituale di Hollywood, non è piaciuta nel paese scandinavo, dove per i suoi metodi e le dichiarazioni di medicina alternativa è stato etichettato come un ciarlatano. Il matrimonio si terrà nella città di J. Ranger, sulle rive dell'omonimo fiordo, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, nella Norvegia sud-occidentale. Siamo incredibilmente felici di poter celebrare il nostro amore negli splendidi dintorni di J. Ranger, ha segnalato la coppia in una nota. Martha Louise e Durek Berret hanno annunciato il loro fidanzamento nel giugno 2022, ricevendo la benedizione del re Harald che sposò anche lui una persona comune quando si unì a Sonia nel 1968. Oggi, in una dichiarazione separata, il re, la regina e il principe ereditario Acon si sono congratulati con la coppia e hanno affermato di essere felici di accogliere Durek Berret nella famiglia. Martha Louise è la prima figlia del re Harald V di Norvegia e della moglie Sonia di Norvegia. È nata ad Oslo il 22 settembre 1971. Ha frequentato la scuola smestata ad Oslo e quelli superiori al Christelig Gymnasium. Ha proseguito gli studi in Inghilterra per studiare letteratura all'Università di Oxford ed ha anche coltivato la sua passione per l'equitazione perfezionandosi nel salto ostacoli. Nel 1992 la principessa ha intrapreso gli studi in fisioterapia all'Oslo University College conseguendo nel 97 la certificazione di fisioterapista. La vita privata della principessa ha subito un cambiamento non indifferente, non è più altezza reale e si è trasferita a vivere negli USA. Qui ha creato una scuola alternativa di terapia dove si dedica alla formazione in chiaroveggenza e comunicazione con gli angeli. Ha più volte dichiarato di poter comunicare con gli animali e con gli angeli. A Trondheim il 24 maggio 2002 ha sposato lo scrittore Ari Ben. Il 5 agosto 2016 la Casa Reale ha annunciato il divorzio della coppia, dopo 14 anni di matrimonio. Hanno deciso l'affidamento congiunto delle tre figlie. Ari Ben è morto suicida a Lomedalen il 25 dicembre 2019. A marzo dello scorso anno, la principessa aveva condiviso la prima foto dei suoi tre figli insieme al compagno. Marta aveva scritto su Instagram una lunghissima riflessione su quanto fosse felice di stare insieme a Dure che come questa relazione abbia cambiato il suo modo di pensare. Essere la ragazza dello sciamano Durelic, ha scritto, mi ha fatto fare un corso accelerato su come la supremazia bianca sia in gioco e sul modo in cui ho pensato e agito, consciamente e inconsciamente, nei confronti delle persone di colore. Ho dato per scontati i miei diritti, non ho mai analizzato a fondo cosa fosse il razzismo, perché mi faceva comodo che il sistema fosse in vigore. Non ne vado fiera, ma mi rendo conto che devo crescere nella comprensione di questo sistema profondamente radicato per poter partecipare al suo smantellamento. Io, come persona bianca, devo crescere, educarmi e migliorare e passare dall'essere contro il razzismo all'essere antirazzista. Il razzismo non è solo l'ovvio, come pensavo, la discriminazione, il maltrattamento e l'uccisione di persone di colore, contro cui è facile e ovvio prendere posizione. Derek David Verrett nasce il 17 novembre del 1974, in California. Inizia a lavorare come modello e viene ispitato in diversi programmi televisivi. Dopo qualche tempo comincia la sua attività di sciamano e autore di diverse opere letterarie, come Spirit Hacking, Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, e Light Up the World. Figura nota quale sciamano New Age negli Stati Uniti è anche tra i celebri personaggi dello spettacolo e non, tra i suoi obiettivi dichiarati c'è quello di portare l'antica pratica dello sciamanesimo nuovamente presente all'interno della cultura odierna, sviluppando l'amore e l'accettazione di sé. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.